Una società molto grande per me, è una famiglia forte e voglio vincere, per cui sono venuto qua. Per me è sicuramente un nuovo capitolo che si chiama Forza Napoli e sempre. Quindi vorrei stare a lungo a Napoli? Non si sa mai, io sono venuto qua per... In calcio... O lo ammazziamo subito, lo rimangiamo a uno. No, ma sono venuto qua per grandi obiettivi e voglio arrivare con questa squadra in alto. Io dico solo una cosa, Udinese-Napoli è stato...